Mi sta strappando i jeans nuovi. Tu ti metti i jeans, io sono in tuta. Non deve. Io ho solo la giacca e la camicia, poi sotto sono come paperino. Ok che io sono in mezzo copri, però... Poi sotto non ho niente, nel senso che... Non ho niente sotto. Proprio niente. Questo è top, questo è top.